Grazie di essere qua, vi do il benvenuto, sono Salvatore Moteo per quanto riguarda la Presidente dell'Associazione The Cube che organizza questo laboratorio dal basso. Vi racconto un po' qual è il problema che abbiamo riscontrato stando qui dentro, ci sono persone che spesso passano con idee talvolta anche geniali, talvolta un'idea embrionale che ha bisogno di essere sviluppata, quello che è il problema fondamentale anche di sviluppo di questa idea è che tutte queste persone sono sole, quindi si trovano magari ad avere un'idea geniale ma non hanno un compagno che li affianchi, non sanno a chi rivolgersi, non hanno la più palida idea di come fare per risolvere un determinato step. Quello che abbiamo realizzato qui insieme ad altri nove ragazzi, anche loro appartenenti a start up o a spin off, è stato quello di lanciare un'associazione che possa essere una community, una community che aiuti le persone ad avviare dei progetti supportandosi tra di loro. In particolar modo è nata questa iniziativa sfruttando anche quello che è il laboratorio dal basso e l'obiettivo è quello di essere un po' da fratelli maggiori per i nuovi progetti nati da principi attivi o comunque persone che si vogliono mettere alla prova. Che obiettivo ha il laboratorio dal basso start up just do it? Noi due anni fa abbiamo iniziato un percorso con MRS che ci ha portato a dover affronteggiare tutti questi problemi studiandoli singola volta. Quello che stiamo facendo è imparare dagli errori e proporre un corso di formazione in pillole, come insomma vi siete già resi conto la settimana scorsa, 8 ore di team building, che possano supportare o darvi quantomeno le basi per affrontare dei problemi che ogni giorno chi fa start up deve affrontare. Abbiamo ipotizzato una mappa, la mappa è composta da 10 moduli e oggi siamo qui per discutere quello di proprietà intellettuale. Quindi di cosa parleremo oggi? Di quali sono le forme legali per tutelare il know how? Quali sono le banche dati per andare a fare un'analisi di anteriorità? E soprattutto tutti gli errori che molto spesso ricercatori ma anche docenti commettono pubblicando e non brevettando. Quindi l'obiettivo è anche quello di informare tante altre persone che si trovano nel mondo della ricerca e che magari si precludono un mondo che può essere quello industriale perché spinti dal presentare un paper. Qui insieme a noi oggi l'ingegnere Gabriele Conversano che si è laureato qui in ingegneria all'Università del Salento e in più è scritto all'ordine degli ingegneri dal 2009 e all'ordine dei consulenti brevetti dal 2012. Le presentazioni penso che le farà lui più tardi. Alcune informazioni di dettaglio Abbiamo abilitato lo streaming su www.laboratoridalbasso.it Conferma dei tecnici Per quanto riguarda tutta l'interazione per tutte le persone che ci seguono da casa è possibile farla via tweet su hashtag LDB startup oppure chiocciola de underscore cube Questo strumento ci permette di interagire anche con tutte quelle persone che ci seguono a distanza e che magari sono impossibilità di avvenire qua Vi chiedo di scrivere e di twittare perché in questo modo possiamo raccogliere le domande da girare al docente durante il corso delle lezioni Per chi avesse un pc queste sono le credenziali quindi vi chiedo di annotarvele Per registrarsi servono quindi vi chiedo di registrarle La rete è Amy Guest Wi-Fi Per quanto riguarda invece username ldb.startup password 1927 Vi lascio qualche minuto così potete annotare Fatto? Ringrazio tutti Sì, ecco a te Posso? Ringrazio tutti i partner Prima di tutto i partner istituzionali Bollenti Spiriti, Arti, Regione Puglia che ci ha permesso di realizzare questo corso di formazione Tutti i partner organizzativi tra cui l'Università del Salento e i progetti Biobank che sono gli altri laboratori come The Cube focalizzati sull'area cultura, ambiente e territorio e bio e nanotecnologie e Innovars che è l'associazione delle spin-off dell'Università del Salento Tutti i media partner invece ZeroDD, Ingegnart e Radio Wow Questi sono i link per iscriversi a tutti gli eventi Noi vi chiediamo fondamentalmente di iscrivervi a Eventbrite Ogni settimana vi attivo il link per registrarsi al prossimo incontro Tutti i siti li trovate Trovate gli eventi sul sito www.daycube.eu Tutto il materiale didattico viene pubblicato al termine del modulo quindi domani saranno già pubblicate le slide di proprietà intellettuale e le trovate su slideshare.net.deycube Il materiale lo potete scaricare e seguire Per quanto riguarda invece tutta la parte di video riprese saranno disponibili al termine del laboratorio dal basso Domande? Ora, prima di lasciare la parola vi presento un'altra iniziativa che si chiama QBLAI QBLAI è un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico di cui noi siamo partner abbiamo ospitato un evento QBLAI pochi mesi fa proprio qui in questa sala con progetti pugliesi che hanno presentato ad una giuria di esperti Che cos'è? È un'idea che nasce nel 2008 come iniziativa sperimentale da parte del Dipartimento dello Sviluppo della Coesione del Ministro dello Sviluppo Economico e soprattutto ha lo stesso nostro obiettivo quindi sviluppare le politiche di coesione e soprattutto aiutare i ragazzi a supportare i loro progetti tra di loro Che cos'è quindi QBLAI? QBLAI è un blog dove si raccontano le esperienze di ragazzi che hanno difficoltà o che magari riescono a risolvere i problemi e queste difficoltà ma è anche una piattaforma, un social network per progettare dove tutte le persone sono viste alla pari e si aiutano tra di loro per innovare o realizzare nuovi progetti Cosa si trova in QBLAI? In QBLAI è possibile trovare altre persone che lavorano magari su progetti simili e trovare dei feedback da parte loro e per partecipare basta accedere a www.progettokublai.ning In questo modo potete avere accesso a tutte quelle che sono le informazioni di QBLAI Ci sono più persone che seguono in maniera diretta tutta l'iniziativa e fanno gli animatori della piattaforma Perché vi sto parlando oggi di QBLAI? Perché il 30 settembre c'è la scadenza per presentare la vostra idea di impresa al QBLAI Award che è un evento che viene fatto ogni sei mesi da QBLAI e durante l'evento finale hanno accesso a presentare il loro progetto i progetti più votati e quindi entro il 30 settembre c'è una prima deadline per presentare un'idea di progetto di una paginetta e il 30 ottobre invece bisogna presentare un progetto un po' più realizzato in dettaglio simile ad un business plan Il premio sono 5.000 euro per tutta la parte che riguarda i servizi che possono essere utilizzati per crescere il valore della vostra startup L'anno scorso o meglio pochi mesi fa il vincitore del QBLAI è stato un progetto pugliese Aerial Click e vogliamo mantenere questa tradizione di progetti pugliesi e di giovani ragazzi che riescono a competere e ce la fanno quindi l'invito da parte di The Cube e da parte di tutti noi è quello di presentare questi progetti e noi saremo a vostra disposizione per supportarvi in tutta la parte di scrittura e presentazione dei bandi Grazie mille Grazie a QBLAI per questa opportunità di presentare il bando insieme a loro e lascio la parola all'ingegnere Gabriele Conversano Buonasera Innanzitutto Faccio il giro Funziona il microfono? Sì? Ok Allora Benissimo Allora, diciamo presentazioni ne sono già state fatte anche a sufficienza per cui diciamo entrerei nel vivo di quello che vogliamo vedere oggi Anche insomma lì c'è il mio riferimento conversanochiocciolalaforgiabruni.it potete utilizzarlo anche per eventuali come dire contatti successivi qualora ciò che ci raccontiamo oggi susciti curiosità Che cosa ci raccontiamo oggi? Definizione di innovazione sull'enciclopedia Treccani Allora, l'innovazione tecnologica è un'attività deliberata delle imprese e delle istituzioni tese a introdurre nuovi prodotti e nuovi servizi nonché nuovi metodi per produrli distribuirli e usarli Ora nel dettaglio qui in mezzo parlavo prima con lui ma immagino che molti altri di voi abbiano idee che che a vario titolo possono essere considerate innovative una nuova forma di vendere qualcosa su internet o di organizzare gruppi di persone per entrare un po' più nel tecnologico un materiale o una configurazione di una macchina diversa da altri oppure un prodotto già noto ma con un aspetto estetico che lo renda riconoscibile rispetto a quanto è già sul mercato Queste sono tutte forme di innovazione la cosa interessante oltre diciamo al concetto di novità che si può esplicare in varie maniere e che ora vediamo nel dettaglio è che l'innovazione difficilmente nasce per caso ma di per sé viene fuori da un'attività deliberata l'attività deliberata in quanto tale comporta sforzi non solo come impegno di tempo ma in generale anche come impegno economico e questi sforzi oggi vedremo un attimo come possono essere tutelati e valorizzati quindi diciamo questo è quello che vediamo nel dettaglio che cosa vi racconterò vi racconterò quali sono le invenzioni che cos'è un'invenzione quando è come dire candidabile ad una domanda di brevetto quali sono i percorsi possibili per ottenere un titolo brevettuale e che diritti conferisce a chi lo ottiene una stima indicativa dei costi di ciascuno di questi percorsi e inizieremo anche a vedere qualche caso pratico di brevetti effettivamente concessi e di strumenti per ricerche di anteriorità in campo brevettuale alla fine della giornata di oggi o all'inizio della giornata di domani più probabilmente all'inizio della giornata di domani faremo anche un'esercitazione pratica in cui mettendo in fila questi concetti su un caso didattico presso dall'ufficio europeo dei brevetti quindi comunque come dire abbastanza strutturato e soprattutto riferito un brevetto reale per quanto di semplice comprensione verificheremo un attimo come si può fare una ricerca di anteriorità e come si può ragionevolmente fornire un primo parere per decidere se andare avanti sulla strada della tutela brevettuale o viceversa cercare altre forme di tutela per la propria innovazione questo diciamo è il quadro di quello che andiamo a vedere tra oggi e domani ovviamente poiché per alcuni di voi immagino che l'argomento sia piuttosto nuovo sentitevi liberi in qualunque momento di come dire esternare qualunque dubbio curiosità o qualunque cosa non sia chiara dalla presentazione che in ogni caso è solo un canovaccio per cui diciamo possiamo tranquillamente approfondire altri aspetti come avete visto diciamo la presentazione è un minimo strutturata più che altro a fini diciamo bibliografici perché poi la darò a Salvatore che la pubblicherà su slide share però diciamo nel proseguo della lezione possiamo andare avanti in maniera anche più informale allora che cos'è la proprietà intellettuale dunque in senso così lato è un insieme di beni materiali che siano frutto dell'inventiva e dell'ingegno umano e la legge diciamo prevede una serie di forme di tutela per come dire sostenere e stimolare questo percorso di innovazione no? queste forme di tutela sotto una o più condizioni che ora vediamo in dettaglio cosa conferiscono? conferiscono a creatori ed inventori no? il termine diciamo creatori si riferisce a chiunque i nuovi sull'aspetto estetico piuttosto che nelle opere dell'arte o come dire in campi che non siano quelli dell'invenzione in senso stretto cosa conferisce la legge? l'esclusività dello sfruttamento delle creazioni o invenzioni nonché gli strumenti legali per tutelarsi cioè diciamo una serie di strumenti che possono essere utilizzati da chi detiene una privativa industriale sia esso un marchio sia esso un brevetto sia esso un copyright per come dire farla valere nei confronti di terzi diciamo il motivo per cui tutto ciò esiste è che per un imprenditore qualunque sia il campo in cui l'imprenditore lavora non è importante soltanto realizzare un'innovazione ma è importante essere l'unico a poterla commercializzare perché nel momento in cui io immetto sul prodotto immetto sul mercato un nuovo prodotto e una settimana dopo ho cinque concorrenti che fanno esattamente il mio stesso prodotto perché come dire l'hanno smontato ne hanno carpito i segreti e l'hanno replicato chiaramente le mie prospettive di guadagno sono completamente diverse da quelle che avrei in un regime di monopolio sia pure limitato e temporaneo per cui diciamo a seconda di ciò che come dire sono riuscito a innovare no? la legge mi dà uno o più di questi strumenti di tutela allora se ho innovato nel campo dell'espressione artistica ci sono delle tutele legate a quelle che è il diritto d'autore viceversa se ho innovato innovato nel campo del design dell'aspetto estetico quindi da quelli che sono gli oggetti di design per eccellenza che sono i mobili le scarpe i vestiti ma qualunque altro prodotto qualora io lo realizzi con un aspetto riconoscibile può essere oggetto di tutela allora avrò diritto alla tutela conferita da quelli che sono i disegni e modelli ancora tutte queste cose io ho bisogno di identificarle cioè di rendere riconoscibile al consumatore che provengono dalla mia azienda tutela ragion per cui ci sono una serie di tutele legate ai marchi e ad altri segni distintivi e da ultimo la forma di tutela che più ci interessa oggi è quella legata all'innovazione sulla funzione all'innovazione tecnologica declinata in una delle n forme in cui può essere realizzata che possiamo vedere può essere tutelata col brevetto o col segreto aziendale questa scelta diciamo ha pro e contro come diciamo in tutte le cose che mediamente incontriamo quotidianamente e vediamo in dettaglio gli uni e gli altri allora andiamo per gradi innovazione tecnica no? abbiamo detto che innanzitutto abbiamo innovazione tecnica quando realizziamo un prodotto o un processo che ha un effetto tecnico ulteriore rispetto a quanto nota lo stato dell'arte ragion per cui un accorgimento per migliorare lo scambio termico un accorgimento per migliorare l'indicizzazione di un database una qualunque di queste innovazioni si può configurare come innovazione tecnica ovviamente diciamo io potrei come dire sfruttare la mia innovazione senza dirla a nessuno tenendo la segreta e correndo il rischio che questa innovazione venga scoperta da terzi e quindi replicata o al contrario potrei depositare una domanda di brevetto per invenzione o in alcuni casi e vediamo in quali per modello di utilità in base alla quale l'invenzione viene si divulgata cioè diviene di pubblica conoscenza accessibile a tutti però in cambio lo stato mi concede un'esclusiva un monopolio per un periodo di tempo limitato l'innovazione estetica l'innovazione estetica cosa garantisce garantisce l'esclusiva su tutte le forme identiche o simili a quella da me realizzata diciamo che la definizione corretta è tutte le forme che suscitino nell'utilizzatore informato la medesima impressione generale cioè tutte le forme che sono fatte per non essere come dire a primo acchitto diverse da quella che io per primo introdotto sul mercato ancora la creazione artistica è tutelata dalle norme sul diritto d'autore e come dire tutela nella serie di tutta tutta una serie di opere letterarie, drammatiche della letteratura della scultura di queste in generale in generale ciò che è più interessante nel contesto di oggi è che tutela i programmi per il laboratore e le banche dati dove per banche dati si intende l'organizzazione delle informazioni quando queste siano rese facilmente accessibili per cui una banca dati di norme uni che sia indicizzata in modo da recuperare al volo la norma uni che io sto cercando è protetta non per il contenuto delle norme uni che sono come dire di pubblico dominio basta andare sul sito dell'uni e acquistarle ma per lo sforzo che qualcuno ha fatto di organizzarle da ultimo il quarto quadrante segni distintivi dell'impresa allora perché mi viene riconosciuta a me imprenditore una tutela per i segni distintivi dell'impresa perché la legge prevede che i miei prodotti debbano poter essere identificati questo consente a me di accumulare nel tempo affidabilità agli occhi dei consumatori e al tempo stesso a un consumatore che si trovi a dover scegliere fra vari prodotti merceologicamente affini gli consente di come dire identificare qual è l'azienda da cui provengono i prodotti che sta acquistando può essere utilizzato come mezzo di identificazione dell'impresa un qualunque segno dico segno ma in realtà entità per cui anche un suono capace di caratterizzare un prodotto servizio e di distinguerlo dagli altri McDonald's per esempio ha un marchio sonoro Intel ha un marchio sonoro se ci riflettete tutte le volte che c'è la pubblicità di un computer con un processore Intel c'è un jingle tutte le volte che c'è la pubblicità di McDonald's c'è un jingle quelli sono entità capaci di caratterizzare i prodotti che arrivano da una determinata impresa e per questo motivo sebbene non siano graficamente rappresentabili sono comunque tutelati come mezzi distintivi dell'impresa. ora questi esempi come dire sono ovviamente così pescati a caso ma servono a chiarire il concetto che qualunque entità in grado di differenziarmi dagli altri può essere oggetto di tutela e in particolare il nome con cui io chiamo la mia impresa no? la ditta ancora qualunque segno distintivo del prodotto sia esso verbale quindi diciamo una parola una frase sia esso un logo sia esso una forma qualunque segno distintivo del prodotto che ne attesta la provenienza dalla mia impresa può essere oggetto di registrazione come marchio ancora vabbè l'insegna come come dire segno del luogo fisico in cui svolgo l'attività è il domain name cioè il nome a dominio ovvero ciò che viene utilizzato come dire per accedere al sito internet relativo ai prodotti o servizi come dire di pertinenza della mia impresa ora a questo punto diciamo io ho fatto una rapidissima carrellata come così da d'accordi con salvatore giusto per arrivare a questo sinottico in cui vediamo quali sono i diritti legali che ci sono riconosciuti in virtù di quella che è l'innovazione che abbiamo realizzato allora in blu è ciò che ci interessa oggi però diciamo era importante che in premessa passasse il concetto che non è l'unica forma di tutela della quale si può disporre nel momento in cui si fa qualcosa di migliore di diverso di nuovo rispetto agli altri per cui diciamo partendo dal basso e a salire nel momento in cui ho delle informazioni di valore che non siano conosciute al pubblico perché probabilmente sono il risultato di prove test dati da me raccolti no? se sostengo degli sforzi ragionevoli per non divulgarle non ne verrà conoscenza nessun altro pregi e difetti della tutela col segreto industriale il marchio non abbiamo appena parlato ah scusate modelli o disegni apparenza come dire impressione generale dal punto di vista estetico no? la forma della bottiglia della coca cola a salire marchio registrato funzione di identificazione dei prodotti o servizi entrambi queste cose si come dire si ottiene la tutela mediante registrazione il copyright creazione originale o espressione artistica questo diritto sorge in capo all'autore nel momento stesso in cui l'autore realizza la sua creazione per cui nel momento stesso in cui io finisco di dipingere un quadro o più probabilmente sviluppo un codice un codice sorgente per un qualunque programma sono tutelato dal diritto d'autore è chiaro che affinché questo principio sia poi praticamente applicabile ho la necessità di come dire conferire una data certa a quella che è stata la mia opera e quindi una delle forme di legge la più la più facile è quella del deposito presso la CIAE da ultimo i brevetti no? che sono sostanzialmente conferiti per le invenzioni e che si ottengono in una maniera un po' più complessa della semplice registrazione che è mediante domanda ed esame qui c'è diciamo un overview di quello che possiamo trovare come proprietà intellettuale in un telefonino cellulare qualsivoglia questo sia no? per cui ragionevolmente ci saranno una serie di marchi registrati Nokia N95 Java Symbian e quant'altro una serie di brevetti sui metodi di elaborazione dati sui chip sui circuiti a semiconduttori su composti chimici utilizzati per lo schermo e quant'altro il copyright sicuramente sul codice che è all'interno del telefono sul manuale delle istruzioni sulle suonerie se ci riflettete la suoneria della Nokia preinstallata è tipicamente diversa dalla suoneria della Apple e così via ancora il design l'aspetto estetico nelle parti in cui è distinguibile per esempio nella disposizione dei bottoni in forma ovale può essere oggetto di tutela a mezzo di modello di design ora il punto fondamentale no? è che se io voglio fare concorrenza rispetto ad altri non sul prezzo perché fare concorrenza sul prezzo come dire è una maniera di fare impresa che contrae gli utili che ci fa lavorare in condizioni non sempre accettabili ho necessità di fare innovazione cioè di offrire un prodotto che sia preferibile a prescindere entro certi limiti dal prezzo a cui lo vendo ora per questo motivo poiché il mio prodotto in generale quando arriva sul mercato diviene pubblico no? necessito di una tutela legale per poterlo produrre in maniera esclusiva ragion per cui esiste il brevetto ora su questa slide no? ho riassunto ciò che ci siamo detti finora e ho evidenziato ciò che può essere oggetto di valorizzazione economica per una startup nel senso che no? dal punto di vista dell'innovazione tecnologica tutto ciò che è segreto industriale sarà difficilmente oggetto di valorizzazione economica nel momento in cui cerco fondi da finanziatori esterni perché nel momento stesso in cui inizio a parlare con un finanziatore esterno vuoi o non vuoi almeno una parte di queste informazioni segrete dovrò come dire iniziare a rivelargliele quindi diciamo è un come dire problema piuttosto delicato è più facile viceversa che se io ho dei titoli di proprietà industriale che tranquillizzano il finanziatore che gli dicono va bene se tu investi su quest'idea il tuo investimento potrà essere ripagato da un monopolio temporaneo allora è più facile che in quel caso io possa avere una leva dell'innovazione cioè rendere economicamente attraente l'acquisto di ciò che io ho sviluppato in una delle varie forme che esistono che può essere la cessione la licenza o quant'altro da parte di un finanziatore esterno quindi diciamo il motivo reale per cui una startup dovrebbe essere interessata a capire come funziona la domanda di brevetto è che una delle armi migliori per ottenere fondi da privati un fondo di investimenti difficilmente acquisterà una tecnologia che non sia tutelata ora un aspetto relativo al segreto industriale è che il reverse engineering in generale non è vietato per cui nel momento in cui io faccio innovazione di struttura quindi diciamo qualunque cosa sia come dire accessibile smontando il mio prodotto acquistandolo esaminandolo questa cosa diviene in realtà pubblica appena io la immetto sul mercato ragion per cui tipicamente il segreto industriale si adatta ad alcune innovazioni nel campo della chimica ma non a molto altro e d'altronde da un punto di vista della legge italiana no esiste una tutela per il segreto industriale cioè se qualcuno entra in azienda che sia un mio dipendente che lo fa e c'è in mala fede che sia un terzo che lo fa diciamo no disoppiatto esiste una tutela data dal codice della proprietà industriale che mi dice che in effetti ci sono informazioni segrete che sono tutelabili ma devono intanto avere valore economico in quanto segrete e poi devono essere soggette a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete ora capite bene che queste sono condizioni difficili da dimostrare nel momento in cui mi trovo in una causa civile con qualcuno che mi ha sottratto queste informazioni e al tempo stesso quelle informazioni le informazioni saranno ormai pubbliche per cui una volta che il segreto industriale sia stato rilevato tutelarlo giuridicamente è molto problematico ora mi rendo conto che l'introduzione in questo discorso è piuttosto lunga e d'altronde però non è evitabile se si vuole come dire contestualizzare il motivo del perché possiamo richiedere una domanda di brevetto perché ci serve e perché altre alternative si rivelano spesso meno preferibili a questo punto no avendo evidenziato il fatto che il segreto industriale presenta una serie di rischi che se io faccio innovazione tecnologica ho bisogno di tutelarmi per essere l'unico a portarla sul mercato veniamo a vedere che il brevetto in realtà è un accordo no? è un accordo fra me e la società dove io richiedente cosa faccio? descrivo la mia invenzione spiego come l'ho ottenuta e spiego come potrebbe fare un altro tecnico diverso da me a replicarla in cambio di questo no? la società mi concede un monopolio temporaneo ora io ci guadagno evidentemente il monopolio temporaneo che vedremo dura vent'anni della data del deposito la società ci guadagna secondo chi sostiene il sistema brevettuale perché io ho spiegato la mia invenzione anziché mantenerla segreta e quindi diciamo con ciò la società come dire sta acquisendo progresso tecnico i display LCD sono di libera attuazione perché oltre a vent'anni fa sono stati oggetto di domanda di brevetto quindi tutti sanno come sono strutturati all'interno e tutti li possono replicare ma potremmo fare decine e decine e decine di esempi tutto ciò che era già noto vent'anni fa anche se è stato oggetto di domanda di brevetto è oggi liberamente attuabile e al tempo stesso molto probabilmente è descritto in documenti brevettuali che sono pubblici per cui diciamo in cambio del monopolio temporaneo che la società ha concesso a chi ha fatto innovazione ne ha ottenuto una serie enorme una quantità enorme di informazioni di carattere tecnico che poi vedremo diciamo a seconda parte della di questa giornata come possiamo fare a consultare ora c'è un piccolo aspetto no? che nel mondo accademico è anche abbastanza dibattuto no? ci sono sostanzialmente come dire sostenitori del sistema brevettuale viceversa oppositori del sistema brevettuale no? per cui diciamo chi lo sostiene è convinto del fatto che la presenza del sistema brevettuale come dire sia di stimolo incentivo all'innovazione perché un imprenditore non investirebbe in innovazione se non avesse il miraggio della tutela conferita dal monopolio al contrario chi obietta l'utilità del sistema brevettuale dice che l'imprenditore rinnoverebbe per forza di cose anche in assenza della tutela brevettuale e che quindi da questo punto di vista il sistema brevettuale è inutile e poi dice che senza il sistema brevettuale le eventuali invenzioni si diffonderebbero molto più rapidamente di quanto non avviene in presenza ora ovviamente diciamo su questo argomento chiunque può avere un'opinione in merito però lo stato di fatto del sistema è che il sistema brevettuale c'è e è anche piuttosto come dire diffuso per tipo di di tecnologia no? materiale a superconduttori bicicletta spazzolini da denti no? documenti depositati negli anni sulla bicicletta no? fino anche a dopo il 2005 dove sono aggiornati questi dati ci sono più di 3000 domande di brevetto depositate all'anno eppure la bicicletta è vecchia due trecento anni duecento anni non so bene quanto ma certo non è nata ieri ehm sullo spazzolino no? che diciamo è un oggetto intanto di uso comune ma che diamo per scontato ci sono mediamente mille domande di brevetto all'anno chiaramente diciamo tutte queste domande hanno a che fare con innovazione incrementale dello spazzolino o della bicicletta non come dire un nuovo paradigma di prodotto allora iniziamo a entrare nel dettaglio qualche osservazione rapida diritti conferiti da un brevetto cioè nel momento in cui me lo danno questo brevetto ci dobbiamo arrivare e poi vedremo che è piuttosto lunga ma nel momento in cui me lo danno che ci posso fare? allora con questo brevetto io posso articolo 66 quando trovate quel cp è perché traggo la maggior parte delle nozioni normative dal codice della proprietà industriale che si applica in Italia ma sono uguali nella sostanza negli altri stati del mondo allora se oggetto del brevetto è un prodotto ho il diritto di vietare ai terzi di produrre usare mettere in commercio o vendere il prodotto in questione se oggetto del brevetto è un procedimento sempre il diritto di vietare ai terzi l'applicazione del procedimento o l'utilizzo dei prodotti direttamente ottenuti no? processo per la sintesi di una molecola X io posso vietare ai terzi sia di mettere in atto il processo sia di commercializzare la molecola X che viene dal processo che io ho inventato qual è l'osservazione da fare? è che l'ottenimento del brevetto non è un'autorizzazione alla messa in commercio non implica il diritto di commercializzare un prodotto e questo diciamo se allora facciamo l'esempio dello spazzolino e poi vediamo la teoria dei mille che hanno chiesto una domanda di brevetto per un'innovazione sullo spazzolino nel 2005 diamogliene pochi diciamo che 100 sono arrivati due anni dopo tre anni dopo a ottenere un brevetto concesso ma siamo sicuri che per commercializzare uno spazzolino con quel brevetto non stiano ledendo i diritti di nessun altro? abbiamo detto che l'innovazione è incrementale no? per cui io vado a fare innovazione su dettagli di prodotti già esistenti e nel momento in cui ottengo il brevetto io posso vietare a terzi di replicare la mia invenzione ma prima di commercializzarla io devo assicurarmi che non sto entrando nel campo di protezione di nessun altro allora senza come dire andare per le lunghe dove questa cosa è spiegata e rimane sulle slide il punto è questo supponiamo che qualcuno abbia un brevetto che copre tutta l'aria in grigio no? ora in realtà all'interno di quest'aria in grigio che come dire è una rappresentazione grafica di tutti i possibili modi di realizzazione che lui ha protetto con la sua rivendicazione 1 a tutti gli effetti lui ne conosce ce ne sono cinque nel disegno ne conosce un sottoinsieme limitato supponiamo che io sviluppo questa invenzione in una maniera non ovvia io posso trovare qualcosa che sta qui dentro cioè che è coperto dalla sua invenzione ma che non è ovvio leggendo la sua domanda di brevetto e allora a questo punto io posso depositare una domanda di brevetto e ottenere tutela per lo spazio in giallo per cui che cosa succede? io che ho il brevetto per lo spazio in giallo che diritti ho? ho solo il diritto di vietare a chi aveva il brevetto precedente di mettere in atto la mia invenzione cioè io ho scavato un buco tipo groviera nella sua protezione ma non ho nessun diritto di metterla in pratica perché per metterla in pratica dovrei come dire ledere gli interessi di chi ha legittimamente un brevetto per cui diciamo la cosa che è importante che passi a chi richiede una domanda di brevetto è che nel momento in cui io ho una domanda di brevetto in mano non ho finito perché non sono sicuro di poter commercializzare il prodotto che è oggetto di quella domanda di brevetto ancora giusto per dare qualche indicazione di carattere pratico da quando nascono i miei diritti no? abbiamo detto che io con un brevetto ho il diritto di vietare a terzi di replicare l'invenzione deposito la domanda di brevetto oggi settembre 2013 vediamo tutto in dettaglio ma ci vorranno due anni e mezzo o tre affinché questa domanda di brevetto mi sia concessa e quindi diventi un brevetto concesso cosa succede in questi tre anni? cioè domattina io ho depositato la mia domanda di brevetto oggi cosa posso fare? domattina quello che posso fare è rendermi conto che gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico ora quando viene pubblicata questa domanda e lo vedremo diciotto mesi dopo che io ho depositato la mia domanda di brevetto quindi innanzitutto se anche l'ufficio italiano brevetti e marchi nell'ipotesi di un brevetto nazionale in diciotto mesi come sempre accade non mi ha ancora concesso il brevetto e io dai diciotto mesi in poi ho gli stessi diritti che avrei se avessi un brevetto concesso e questa diciamo è già una cosa che accorcia i tempi in cui posso attuare la tutela il signore spote la testa è vero che acquistisco un diritto ma non sapendo vado a vedere il diritto di un altro ma non c'è un certo punto ah questo si diciamo visto che non aveva il microfono diceva che è vero che io acquistisco un diritto ma non so se commercializzando vado a vedere i diritti di un altro questo è vero però c'è un aspetto fondamentale che se vogliamo fare impresa io ho tanti rischi di impresa no? ho il rischio di finanziarmi un certo tasso e vedermelo crescere l'anno prossimo ho il rischio di come dire investire tutto su un prodotto che vengo a sapere esattamente sei mesi dopo aver fatto questi investimenti è diventato obsoleto improvvisamente perché qualcun altro ne ha fatto uno migliore ho il rischio legato alla proprietà industriale io lo posso minimizzare questo rischio nel senso che io posso con opportune ricerche di anteriorità rendermi conto di quali sono i titoli che hanno validità in Italia ipoteticamente se voglio commercializzare in Italia e cercare di commercializzare prodotti che non vadano a ledere gli interessi di nessuno però in effetti un rischio che sebbene io lo possa comprimere non è azzerabile nel momento in cui esco sul mercato con un prodotto o con un prodotto che deriva dall'applicazione di un processo che io reputo comunque nuovo non è detto che il mio concorrente non abbia dei titoli di proprietà industriale su quel prodotto ci sono gli strumenti per verificarla questa cosa e per ridurre questo rischio come dire a un livello tollerabile ora dopo di che per cui dicevo no dai 18 mesi in poi io ho diritti come se avesse il brevetto concesso però se dopo sei mesi che io ho depositato la mia domanda lui inizia a produrre qualcosa che io ritengo sia in contraffazione della mia domanda di brevetto cosa posso fare posso notificargli la mia domanda di brevetto da quel momento in poi per lui la domanda di brevetto è pubblica e quindi parte la mia protezione provvisoria è grandissima quest'aula per arrivare ora finora è rimasto ancora a mezz'aria il concetto di invenzione è rimasto a mezz'aria per tutta una serie di motivi non ultimo il fatto che non esiste una definizione positiva l'invenzione è due punti aperte virgolette in normativa non si trova se prendiamo il codice civile allora ci dice che possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atti ad avere un'applicazione industriale però non ce l'ha definito ce l'ha introdotto il termine invenzioni dandolo per scontato per cui in realtà diciamo non troveremo una definizione positiva di invenzione quello che possiamo fare è avere degli elenchi esemplificativi che però come dire non esauriscono necessariamente il problema e questi elenchi sono metodo processo di lavorazione industriale macchina strumento utensili lo dispositivo meccanico prodotto risultato industriale questa è generica in una maniera enorme per cui diciamo in buona sostanza può essere oggetto di invenzione qualunque cosa non sia esplicitamente esclusa per cui diciamo le categorie escluse chi sono? le scoperte laddove per scoperta si intende un minerale già presente in natura del quale prima non si era accorto nessuno me ne accorgo io adesso però quello è già presente in natura non è brevettabile le teorie scientifiche qualunque qualunque teoria scientifica che spieghi dalla deriva dei continenti a qualunque ambito scientifico in giù non è brevettabile i metodi matematici un algoritmo in quanto tale un metodo matematico per trovare le radici di un polinomio di quarto grado non è brevettabile ancora le nuove razze animali se ci riflettete quasi tutte le razze di cani che girano adesso per casa sono tutte selezionate dall'uomo no? non esiste lo Yorkshire in natura però le nuove razze animali non sono brevettabili ancora i trattamenti chirurgici terapeutici e di diagnosi intese in senso stretto cioè diciamo ciò che è applicato sull'essere umano però tutto ciò invece che ci gravita intorno è assolutamente brevettabile per cui tutto ciò che sono i metodi di diagnostica sull'immagine quindi l'analisi dell'immagine ai fini della diagnosi è tutto brevettabilissimo gli strumenti per la per la sala operatoria o viceversa le tecniche intese come applicate agli strumenti sono tutte brevettabili l'ultima categoria di esclusioni sono i metodi per attività intellettuali giochi e attività commerciali per cui diciamo l'esempio tipico è un metodo di calcolo dell'ammortamento di un prestito non è brevettabile fatte queste esclusioni tutto il resto a patto che sia nuovo e inventivo può essere oggetto di brevetto le regole di un gioco le regole del monopoli non sono brevettabili il monopoli è sicuramente tutelato perché probabilmente il nome monopoli è un marchio registrato l'azienda che lo produce ha il proprio nome come marchio registrato l'aspetto estetico della confezione sarà tutelato come modello di design ma le regole intese come metodo per giocare comprendente i passi di di tirare i dati avanzare quelle non sono brevettabili prego non ho sentito l'idea innovativa del gioco indipendentemente dalla struttura delle regole che lo compone perché sia tale non è brevettabile inventare il gioco monopoli e quindi verificare inventare il gioco monopoli quindi verificare il collegamento se le regole ce lo rendono tale quindi se lo rendono un gioco preferibile al altro non è brevettabile in quanto allora c'è un aspetto intendo nel senso spirituale del concetto monopoli rispetto a Razor no? perché abbia nella differenziazione dell'idea una spendibilità commerciale differente no? allora il punto è non sono brevettabili cose che non abbiano risultati concreti mi spiego meglio se facciamo un passo indietro sì 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 no vorrei cercare di arrivare al punto lo spirito che rende lo spirito diciamo l'elemento differenziale tra un gioco ed un altro che lo rende al consumatore preferibile e che quindi determina la plusvalenza per essere spendibile commercialmente è lo spirito del gioco indipendentemente dalle regole che no sono necessarie allora il punto fondamentale no allora c'è c'è una premessa abbiamo detto che il brevetto è un'eccezione no? perché in generale la regola è il libero mercato ora se io voglio un'eccezione o una regola io la devo definire in maniera netta chiara cioè c'è uno staccionato all'interno del quale abbiamo detto lui non può entrare ci sto dentro solo io ora se la diciamo così lo spirito del gioco ancora prima di discutere se sia brevettabile secondo me non è definibile in termini chiari ed evidenti assolutamente però ne costituisce l'identificativo e però come si fa da un punto di vista pratico a concederti il monopolio per un qualcosa che non possiamo definire e infatti io l'interrogativo che sto cercando di svolgere questa seduta è proprio questo perché comunque si crea una differenziazione di natura commerciale che è data dalla risposta del consumatore rispetto al prodotto quindi comunque c'è una valenza di un gioco rispetto ad un altro che ne determina le cifre in termini di commercio ma questo avviene sulla base dello spirito del gioco che non riesco a definire come oggetto di tutela quindi potrei comunque trovare un sistema differente per tutelare l'idea del gioco o comunque viene escluso a prescindere allora qualora l'idea del gioco si configuri come creazione artistica o opera letteraria ricade in ciò che è il diritto d'autore quindi cambia l'ambito però più materialmente siccome questo gioco io lo devo commercializzare allora diciamo se il gioco prevede dei personaggi di fantasia abbiamo detto sono il diritto d'autore però se il gioco prevede del packaging va nel modello di design il nome con cui io lo chiamo va nel marchio registrato non è un'innovazione tecnica il gioco ecco perché è esclusa dalla brevettabilità bene, bene, chiaro, grazie grazie un algoritmo di controllo o un algoritmo di un motore di ricerca? sono prevede c'è l'esempio fra 7-8 slide grazie di un tale Page Lorenz per gli amici Larry ok eccolo qua sei sempre avanti i programmi per elaboratore i programmi per elaboratore sono una delle categorie escluse dalla brevettazione in quanto tali e qui arriviamo allora il motivo è storico nel senso che la Convenzione europea sul brevetto dove questa esclusione è stata sancita è stata firmata la prima volta nel 73 e nel 73 in primis la materia era giovane per cui la comprensione degli sviluppi credo che non fosse chiara a molti e poi diciamo c'erano forti pressioni da parte di chi viceversa era già commercialmente abbastanza come dire affermato produceva hardware per cui diciamo c'è stata questa esclusione che però si è scontrata con i dati di fatto nel senso che la quantità di programmi per elaboratore che possono coprire diciamo una svariata tipologia di problemi è cresciuta e hanno in comune una cosa che sono in generale copiabili in maniera abbastanza come dire facile queste due condizioni cioè che di programmi ce ne sono tanti e che sono copiabili in maniera facile chiaramente ha generato una domanda di protezione del software e si è diciamo nel tempo venuta a consolidare una giurisprudenza dell'ufficio europeo dei brevetti che poi diciamo a cascata ha influenzato tutte come dire anche le decisioni in ambito nazionale che diciamo prevede due tipologie di programmi per elaboratore brevettabili allora la prima tipologia è sono brevettabili quelle invenzioni nelle quali il programma produce un effetto tecnico interno al computer allora un esempio può essere migliorare l'utilizzo delle memorie del computer consentendo l'esecuzione contemporanea dei più programmi se io questa cosa la ottengo non perché ho cambiato l'hardware ma perché lo gestisco in maniera diversa allora quella maniera di gestire che alla fine diciamo sarà traducibile in un algoritmo in un metodo è brevettabile la seconda tipologia di programmi per elaboratore che è brevettabili e le invenzioni nelle quali il programma produce un effetto tecnico esterno rispetto al computer che tradotto in soldoni significa mi aiuta ad ottenere un miglior controllo di un processo industriale ora diciamo così un caso personale metodo di protezione dal pompaggio di un compressore centrifugo allora è evidente che qui quasi tutti sanno che un compressore centrifugo nella parte sinistra della sua caratteristica a un certo punto va in condizioni di pompaggio chiaramente chi mi vende il compressore mi darà dei limiti ben definiti di condizioni di utilizzo nelle quali intanto lui me lo garantisce e poi mi consiglia di utilizzarlo e questi limiti saranno piuttosto lontani da quello che è l'effettivo punto di pompaggio per come dire tutelarsi da eventuali errori di misura o eventuali errori nella determinazione del pompaggio allora un programma per elaboratore che acquisendo in ingresso i valori di pressione e temperatura e miscela come dire composizione del gas che entra nel compressore e altri parametri quali il numero di giri la temperatura in uscita e quant'altro mi consente di determinare quanto sono lontano dal punto di pompaggio in tempo reale di per sé è un algoritmo che è come dire è vero che acquisisce e comanda ma è un programma per elaboratore questo è brevettabile mentre diciamo l'esempio del primo tipo è questo brevetto del 2001 che è sostanzialmente un metodo per assegnare importanza secondo diciamo dei voti di importanza ai noti in un database connesso già nell'abstract il metodo è particolarmente utile nel migliorare le performance dei motori di ricerca quando cercano in database multimediali come il web allora è chiaro che poi diciamo questo metodo ovviamente di per sé è spiegato rivendicato e quant'altro ma è stato concesso come brevetto per invenzione nella fattispecie come US patent nel 2001 e poi diciamo è il capostipite di tutta una serie di brevetti sui quali Google mangia e questo diciamo era per rispondere a Francesco per dire sì il programma un programma per elaboratore in effetti è brevettabile se conseguo un effetto tecnico se io sono in grado di conseguire un effetto tecnico lo posso ottenere il brevetto quando è che non lo posso ottenere? quando il programma per elaboratore e anche questo è un caso che capita piuttosto spesso purtroppo l'unica cosa che fa è implementare cose che già si sanno fare per cui se io ho eventi informatici che per un mese e quindi mi costa mi sviluppano un'applicazione gestionale impensabile prima per gestire un magazzino ma questa cosa non fa altro che automatizzare le operazioni che prima venivano fatte in cartaceo senza come dire conseguire un effetto tecnico ulteriore ma semplicemente come dire mettendo sul computer qualcosa che già si sapeva fare quello è il programma che non è brevettabile abbiamo accennato al fatto che diciamo in generale quando realizzo un prodotto che ha una funzione innovativa potrei valutare se tutelarlo col modello di utilità allora il modello di utilità in effetti si applica solo alle invenzioni dell'ambito meccanico per cui diciamo lascia fuori la stragrande maggioranza dell'innovazione tecnologica è come dire è applicabile ai nuovi modelli cioè alle configurazioni e combinazioni di parti che siano atti a conferire particolare comodità di utilizzo o efficacia a macchine o parti di esse per cui la maniera di ripiegare lo snodo telescopico di una macchina scuotitrice per la raccolta delle olive è un modello di utilità perché la macchina di per sé esiste il fatto che abbia uno snodo telescopico per essere installata su un trattore esiste ciò che l'innovazione diciamo in quel caso ha portato è stata semplicemente una migliore sicurezza stradale nel momento in cui cammino perché lo stesso snodo era ripiegato in più parti però parliamo di come dire ottimizzazione ottimizzazione di componenti meccanici quello è il modello di utilità allora entriamo nella sostanza quando un'invenzione è brevettabile i requisiti sono quattro nuova inventiva non contraria all'ordine pubblico e alla morale ma insomma questo in generale va bene è industrialmente applicabile allora qua mi è rimasta l'animazione non fa niente dunque un'invenzione comprende il requisito della novità quando al momento del deposito della domanda di brevetto non è compresa nello stato della tecnica e lo stato della tecnica comprende tutto ciò che è reso accessibile al pubblico fino a quel momento ora reso accessibile è una definizione piuttosto ampia può essere accessibile a mezzo di descrizione scritta di una descrizione orale di cui ci sia traccia a mezzo della commercializzazione di un prodotto che contiene l'invenzione può essere reso accessibile al pubblico in una lingua per noi familiare quale può essere l'italiano o l'inglese o in una lingua per noi non familiare quale potrebbe essere il tedesco per andare più lontano il cinese questo diciamo non fa differenza dopodichè viceversa quando un'invenzione presente il requisito dell'originalità quando non solo non è compresa in un documento di stato dell'arte ma neanche risulta in maniera ovvia ad una persona esperta del ramo per cui una persona esperta del ramo che legga una serie di documenti già noti allo stato dell'arte e combinandoli non riesca ad ottenere l'invenzione per la quale noi chiediamo domanda di brevetto beh allora quello è un indizio che la nostra il nostro trovato è effettivamente originale l'industrialità un'invenzione applicabile industrialmente se riproducibile con caratteri costanti ed è tecnicamente realizzabile a prescindere dalla convenienza economica dell'operazione per cui diciamo a meno di casi in cui qualche inventore della domenica vuole brevettare il moto perpetuo l'unico caso reale di mancata applicabilità industriale è quando si depositano sequenze di DNA senza indicarne la funzione quello è l'unico caso in cui nella realtà viene sollevato il problema di mancanza di applicabilità industriale per il resto diciamo è un'obiezione che non si vede da ultimo, vabbè, la licetà contraria all'ordine pubblico e alla morale l'unico caso concreto in cui questa cosa si concretizza è nell'esclusione di alcuni metodi genetici applicati all'essere umano per il resto questo è un requisito che non ci riguarda da vicino ora, a questo punto questione fondamentale quando valuto i requisiti di brevettabilità l'istante temporale in cui valuto lo stato della tecnica se questo è il tempo rispetto al momento in cui deposito la mia domanda è fondamentale perché la pubblicazione del documento di uno che è antecedente fa sì che il documento di uno possa essere valutato per distruggere la mia invenzione viceversa qualunque cosa scritta dopo da me o da altri o pubblicata dopo ovviamente non fa parte dello stato della tecnica ed è anche il motivo per cui una volta che io abbia come dire, deciso e valutato di depositare una domanda di brevetto è opportuno farlo il prima possibile perché diciamo in qualunque settore della tecnica il numero di pubblicazioni come dire, che annualmente vengono edite è rilevante ancora il concetto di priorità una seconda domanda di brevetto per la stessa invenzione per farla facile l'estensione a livello europeo o l'estensione a livello internazionale della mia domanda di brevetto italiano che cosa fa? eredita la data di deposito della prima domanda se la deposito entro un anno e se ne rivendico correttamente la priorità cioè se parliamo della stessa invenzione e non aggiungo contenuto ulteriore e questa cosa è rilevante perché se rivendico nella mia estensione europea correttamente la priorità del primo deposito allora mi trovo in questa situazione la pubblicazione di 2 non fa parte dello stato dell'arte per la mia domanda europea anche se era già nota al momento del deposito io deposito oggi una domanda di brevetto italiano fra 6 mesi in una pubblicazione si parla di ciò che io, come dire, sto rivendicando allora è chiaro che la pubblicazione che viene fuori fra 6 mesi non è rilevante ai fini della mia domanda di brevetto poi però io fra un anno faccio l'estensione europea della mia domanda di brevetto italiano quella pubblicazione che nel frattempo c'è stata è rilevante o non è rilevante? se sono, come dire, stato capace a rimanere entro i 12 mesi non è rilevante e, come dire, mi salvo un anno di arte nota da ultimo la validità territoriale e abbiamo veramente finito con le premesse come? il problema è questo, no? adesso dobbiamo definire i due o tre percorsi brevettuali possibili per chi deposita in Italia però, diciamo, a meno di qualcosa che, vabbè la sintesi magari non è mai abbastanza però il problema è che queste nozioni per quanto di ordine legale e non direttamente tecnico contestualizzano ciò che in effetti ci dà una domanda di brevetto per cui, diciamo, averle esclusi a più e pari, no? e arrivare a dire, ok, io ho, sai, depositiamo domattina lasciavo un po' il tutto a mezz'aria allora ovviamente, diciamo, gli effetti derivanti da un brevetto quindi, nella fattispecie, vietare i terzi di entrare nel mio recinto sono limitati allo stato nel quale il brevetto è concesso ovviamente, io, per la stessa invenzione, posso presentare più domande in diversi stati nulla mi vieta di presentare delle domande in Italia, Francia, Germania, Spagna e così via però, diciamo, in generale è conveniente utilizzare uno di questi percorsi che adesso vediamo allora, i possibili percorsi per un depositante italiano che poi, diciamo, è ciò che ci riguarda più da vicino sono brevetto nazionale a effetto in Italia disciplinato dal codice della proprietà industriale brevetto europeo disciplinato dalla Convenzione sul brevetto europeo domanda di brevetto internazionale secondo il trattato di cooperazione leader brevettuale tipo è sempre lo stesso c'è un primo esame formale poi c'è una ricerca di anteriorità e una prima opinione tecnica per cui, diciamo, io deposito una domanda di brevetto ho diritto a ricevere entro 6-9 mesi tipicamente un'opinione di brevettabilità cioè qualcuno che si pone il problema di verificare se ciò che io sto rivendicando è veramente nuovo ed è veramente inventivo e mi da una prima opinione rispetto a questa prima opinione io però ho il diritto di dissentire no? per cui, come dire nasce una seconda fase che è quella di esame sostanziale in cui, come dire Salvatore lo sa bene, no? ci si mette a parlare con l'ufficio rimbalzandosi un po' di osservazioni in merito all'invenzione da ultimo si arriva alla concessione allora qui ci sono un po' di schede che rimangono di riferimento la cosa che ci interessa in questo momento è il regime linguistico se deposito in Italia ho diritto a depositare in italiano almeno le rivendicazioni della mia domanda di brevetto devo tradurle in inglese per consentire all'ufficio europeo dei brevetti di analizzarle l'iter è il seguente io deposito mi arriva il rapporto di ricerca ai 18 mesi la mia domanda viene pubblicata per cui, secondo quello che abbiamo visto posso iniziare come dire ad azionarla verso terzi a utilizzarla per citare in giudizio dei presunti contraffattori rispondo al rapporto di ricerca apportando anche le mie argomentazioni rispetto a quanto è stato detto e dopodiché in un tempo che va dai due anni e mezzo dai due ai due anni e mezzo tre anni in qualche caso ottengo la concessione del brevetto come vedete diciamo in realtà la fase di esame sostanziale c'è e non c'è nel senso che si limita a una mia risposta al rapporto di ricerca brevetto europeo allora la cosa che ci interessa qual è? innanzitutto è che non è un brevetto della Unione Europea ma è un brevetto che copre una serie in più di stati tra cui la Turchia l'Islanda Svezia e Norvegia Finlandia e quant'altro e è un brevetto per il quale io posso fare una prima domanda al solito avere un rapporto di ricerca dopodiché avere una fase di esame cioè una fase in cui come dire in contraddittorio con l'ufficio discuto della validità della mia domanda di brevetto e arrivare per ultimo sperabilmente alla concessione del brevetto a seguito della concessione del brevetto quello che dovrò fare è una convalida negli stati per cui io ottengo in maniera unificata la concessione del mio brevetto presso l'ufficio europeo quello che devo fare è una convalida presso l'ufficio italiano brevetti e marchi in Italia presso i relativi uffici in Germania, Francia e così via e in ciascuno di questi uffici andare a depositare se richiesto una traduzione e pagare la relativa tassa chiaramente questa cosa diciamo è limitante perché non mi consente di avere un titolo unico che vale su tutto il territorio degli stati aderenti ma mi obbliga comunque a scegliere perché io avrò un brevetto europeo ma poi magari avrò i soldi per andare solo in cinque stati ciò che avverrà a breve è che fatta esclusione per Italia e Spagna che in questo tipo di argomenti sono un passo indietro a valle della concessione presso l'ufficio europeo dei brevetti potrò fare l'iscrizione del mio brevetto nel registro dei brevetti unitari cui hanno aderito 25 stati e dopodiché valutare se mi interessa ancora fare la convalida specifica nazionale in Italia e o in Spagna ovviamente ovviamente in questa maniera io con un unico atto amministrativo ottengo tutela in 25 stati i costi di questo unico atto amministrativo non sono ancora stati divulgati questa è una cosa che dovrebbe forse partire dal 2014 più probabile dal 2015 però diciamo è ormai stata come dire decisa per cui è una questione di tempo entrerà in vigore da ultimo la terza modalità in cui posso tutelare una mia invenzione è una domanda di brevetto internazionale secondo il trattato di cooperazione in materia di brevetti questa domanda come vedete qui ho messo sulla durata 30 mesi dalla priorità perché a tutti gli effetti non è non è una domanda che mi consente di ottenere un brevetto internazionale perché il brevetto internazionale come titolo non esiste anche diciamo così come termine è un qualcosa che non ha molto senso ma semplicemente di posticipare a 30 mesi la maggior parte delle spese per cui io posso depositare oggi avere sempre nei famosi no? sei nove mesi un anno dipende un po' da quanto sono in ritardo il mio rapporto di ricerca e aspettare fino ai 30 mesi per cui diciamo due anni e mezzo che è un buon margine di tempo prima di decidere in quali stati ho interesse effettivamente ottenere la mia protezione chiaramente io in questi due anni e mezzo posso aver capito che la mia invenzione non ha valore commerciale non faccio niente di tutto ciò mi risparmi i soldi averla sviluppato ulteriormente e aver iniziato anche ad avere come dire degli introiti dalla mia invenzione che mi consentono di coprire le spese aver trovato un finanziatore se sono una start up no? per cui io come start up direttamente sostengo solo i costi di deposito poi ho due anni e mezzo per come dire mettermi sul mercato in cerca di qualcuno che copre i costi di sviluppo e fra tutti i costi di sviluppo anche quelli di sviluppo della proprietà industriale chiaramente una volta che arriva 30 mesi dalla priorità la scelta va fatta e dovrò come dire fare l'ingresso nelle fasi nazionali o regionali di interesse per cui diciamo nella procedura PCT sono unificate per 144 stati nel mondo le fasi di deposito e di ricerca no? io deposito c'è un primo esame formale c'è una ricerca di anteriorità e con la prima opinione e queste le faccio una volta soltanto dopodichè l'esame sostanziale e eventualmente la concessione lo vado a fare in quegli stati dove voglio avere tutela per la mia domanda e gli stati sono tutti quelli colorati in blu diciamo quelli che aderiscono a questo trattato ci sono come dire si fa prima dire chi non aderisce fra tutti coloro i quali non aderiscono l'Argentina come dire è l'economia più interessante le altre da un punto di vista commerciale sono come dire sicuramente di interesse secondario rispetto ai 140 che aderisco per cui la durata delle privative l'avevamo accennato prima è 20 anni dalla data di deposito 10 per il modello di utilità per cui diciamo una strategia brevettuale tipica io sono una start up ho questa idea che sto valutando se si può brevettare oppure no ne discutiamo un attimo decidiamo che si può brevettare qual è la maniera più economica di tutelarmi perché poi diciamo in genere questo è il problema principale è quella di fare in primi su un deposito italiano perché e lo vediamo subito dopo il deposito italiano in generale ha dei costi di tasse che sono inferiore ai 100 euro poi io la domanda la posso scrivere da solo mi posso rivolgere a un consulente metà e metà può essere particolarmente semplice o piuttosto difficile per cui avrò dei costi di consulenza come dire variabili ma comunque si quantificano in 2 in 3.000 euro in 2.500 zero se lo faccio da solo però in ogni caso io con 100 euro di tasse scarsi ottengo innanzitutto una data di priorità e dopo sei mesi un rapporto di ricerca dall'ufficio europeo dei brevetti cioè capite bene che io sto pagando neanche 100 euro qualcuno che a Monaco apre la mia domanda e mi dà come dire un parere di brevettabilità quindi da un punto di vista economico come dire è il miglior rapporto costi tutela ovviamente io deposito la mia domanda di brevetto in Italia ottengo questo rapporto di ricerca che diciamo ho pagato in maniera economica e decido il rapporto di ricerca è completamente negativo a quel punto potrei anche come dire decidere che dal punto di vista brevettuale la faccio finita mi rendo conto che come dire esistono documenti di arte nota che io non conoscevo e pertanto come dire decido di risparmiarmi tutti i soldi relativi alla tutela successiva dopodichè dal punto di vista commerciale valuterò posso comunque commercializzarlo? ha senso fare questo business in assenza di brevetto? ci sono tante altre valutazioni però almeno dal punto di vista brevettuale ho avuto una risposta in tempi rapidi e a costi contenuti al contrario se il rapporto di ricerca lo valuto del tutto positivo o parzialmente positivo ho 12 mesi di tempo da quando avevo depositato per fare un'estensione internazionale e anche qui diciamo probabilmente ancora dopo 12 mesi il mio business è ancora in fase embrionale non ho ancora sicuramente rete commerciale o molto altro la cosa consigliabile è fare un'estensione internazionale PCT che mi garantisce altri 18 mesi no? fino ad arrivare ai 30 quindi un altro anno e mezzo prima di fare la scelta dell'ingresso nelle fasi nazionali quindi diciamo io sostenendo due spese la prima tutto sommato modesta e la seconda un po' più importante ma ancora accessibile perché parliamo di 3.000 euro di tasse e dopodiché se mi è andata bene la prima domanda potrei anche avere solo il costo di traduzione se da un punto di vista formale e sostanziale la domanda non necessita di sistemazione avrò qualche costo amministrativo e un po' di costi di traduzione ma non più di quello e ho comprato diciamo con queste due spese due anni e mezzo di tempo due anni e mezzo di tempo che diciamo devo però sfruttare affinché diciamo ci sia interesse da parte di un investitore terzo un inizio di commercializzazione insomma in questi due anni e mezzo di tempo devo avere modo di reperire ulteriori risorse finanziarie se sono come dire una start up a corto di soldi perché la spesa vera dal punto di vista brevettuale la faccio con l'ingresso nelle fasi nazionali ora io in questo esempio ho messo Europa e USA ma diciamo nulla come dire no mi proibisce di fare Europa Stati Uniti Cina India Brasile ne ho citate cinque abbiamo già speso abbastanza soldi per queste qui fare la stima è più difficile però insomma due tre mila euro a fase nazionale si fa presto a contarli fra la traduzione le tasse il corrispondente estero e così via anche perché in qualunque stato mentre fin qui potrei anche fare l'autodidatta no? ora diciamo io faccio il consulente di proprietà industriale però tutto ciò che fate fino all'ingresso nelle fasi nazionali voglio dire nulla vi vieta dal punto di vista legale di farlo senza rivolgervi a nessuno appena andate invece in fasi nazionali diverse da quella europea avete bisogno di un corrispondente e quindi lo pagate perché l'ufficio statunitense non vi scriverà mai in Italia vi risponderà scrivendo al vostro corrispondente sul suolo americano per cui se una sede negli Stati Uniti non ce l'avete il corrispondente a quel punto diventa obbligatorio e quindi diciamo ai due anni e mezzo io ho diciamo la prima spesa realmente importante dal punto di vista brevettuale quindi diciamo con questa ipotesi vabbè qui c'era la stima delle tasse di deposito che sono come vedete all'incirca 100 euro per una domanda di brevetto italiano circa 2.500 per una domanda di brevetto europeo circa 3.000 per una domanda PCT chiaramente la domanda di brevetto italiano mi dà solo a parte diciamo la tutela possibile nel territorio italiano mi dà questo primo rapporto di ricerca e 12 mesi di tempo che però come dire confrontato con questi altri costi di deposito mi sembra un buon affare dal punto di vista dei costi che come dire c'è da sostenere fino a ottenere effettivamente il brevetto qui io parlo di un brevetto europeo in un caso abbastanza come dire favorevole nel senso che lo otteniamo entro il quarto anno no? ci sono una serie di tasse che io pago spalmate nell'arco di 3-4 anni e che complessivamente sono di circa più di 5.000 euro meno di 6 chiaramente se la procedura diventa più lunga per cui devo iniziare a pagare la quinta la sesta annualità questi costi crescono in maniera proporzionale al tempo come dire che io impiego a ottenere il brevetto ora a questo punto diciamo io sulla parte sulla parte di strategia di deposito avrei concluso e passerei a fare qualche caso pratico ovviamente su questa parte però se ci sono prego potremmo per esempio rubare un brevetto da un altro stato o qualcun altro potrebbe rubare il nostro brevetto utilizzarlo in altri stati? allora il punto è se tu io ho registrato un brevetto in Italia arrivano dal Brasile mi frega il bevetto io registro il brevetto in Italia e lui lo può utilizzare per esempio in Brasile lo può utilizzare in Brasile sì se non lo faccio a livello internazionale cioè la risposta è sì nel senso che l'abbiamo visto prima gli effetti del mio brevetto o domanda di brevetto sono limitati agli stati per i quali ho richiesto protezione attenzione però che c'è un aspetto se io faccio business in Italia francamente a me che un altro faccia business in Brasile per carità un po' mi dispiace considerando che l'idea è la mia però attenzione se io in questo momento non ce le ho le risorse economiche per andare in 25 stati e ci ho le risorse economiche solo per fare business in Italia intanto pagare un brevetto europeo e fra 2-3 anni espandermi col mercato in Francia e in Germania voglio dire tutto sommato quello che ha detto precedentemente il brevetto internazionale è molto più importante diciamo di un brevetto italiano quindi supponiamo che la persona del Brasile registi un brevetto a livello internazionale contemporaneamente a me cosa succede? vabbè è il caso scuola per cui alla stessa data depositate due brevetti esattamente per la stessa invenzione? no io lo registro in Italia lo registra in Brasile e poi lo registra a livello internazionale che succede? ma lui innanzitutto lui lo deposita prima o dopo di te? in Italia dopo cioè lui io in Italia e lui in Brasile e lui dopo di me ok a livello internazionale però prima di me il punto è questo se lui lo deposita dopo di te ma fin quando la tua domanda di brevetto è segreta no? perché abbiamo detto che la tua domanda di brevetto è segreta per 18 mesi allora tu depositi passano 3 mesi c'è un altro che deposita per un'invenzione identica e un po' difficile molto simile alla tua ok? la tua domanda di brevetto è un documento segreto per cui non può essere utilizzato per valutare lo stato dell'arte rispetto alla domanda del brasiliano per cui che succede? il brasiliano va avanti nel suo iter brevettuale e la tua domanda di brevetto non viene utilizzata lui ottiene un brevetto concesso perché fa i 30 mesi in fase internazionale poi fa l'ingresso in fase europea gli concedono il brevetto europeo e lo convalida in Italia ok? per cui ci vediamo fra 3 anni quando lui avrà un brevetto italiano valido e tu nel frattempo hai un brevetto italiano valido allora il tuo è un cosiddetto national prior right cioè è un diritto precedente di tipo nazionale che fa sì che lui abbia diritto al brevetto ovunque ma non in Italia nei limiti in cui le due invenzioni si sovrappongono per cui il punto è lui in questo caso di esempio può fare all'estero business su una domanda di brevetto che ha dei punti in comune con la tua ma non può venire in Italia dove tu hai un brevetto valido depositato prima del suo dal punto di vista commerciale però comunque lui ha subito un danno notevole no? no dal punto di vista della distribuzione nell'ambito internazionale successiva però lui ha fatto una scelta di non andare a livello internazionale vabbè lui probabilmente si riferiva ad una impossibilità di gestire economicamente l'estensione siamo d'accordo però il punto è questo se tu hai 12 se lui ai 12 mesi fosse andato a livello internazionale fino a ottenere per esempio il brevetto in Brasile a quel punto a quel punto come dire lui avrebbe avuto il national prior right non solo in Italia ma anche in Brasile per cui è vero che la sua domanda di brevetto era secreta quando il secondo depositante ha depositato ma negli stati di suo interesse per le parti che si sovrappongono il suo brevetto era di priorità più anziana la situazione peggiora se il brevetto non è segreto poi? no al contrario la situazione migliora la prima slide che abbiamo trovato brevetto europeo no? allora abbiamo detto che io deposito e questo è il periodo in cui il brevetto è segreto ok? allora chiunque deposita in questo periodo siccome sta depositando in un momento in cui la mia domanda di brevetto è segreta non deve fare i conti con la mia domanda di brevetto ok? la mia domanda di brevetto non è parte dello stato della tecnica per il deposito successivo se uno deposita 19 mesi dopo della mia domanda siccome la mia domanda di brevetto è pubblica allora lui dovrà fare i conti con la mia domanda di brevetto per cui dal mio punto di vista la situazione migliora prego per quanto riguarda l'analisi di anteriorità poiché avviene solo dopo il deposito che comunque comporta dei costi sia a livello italiano che internazionale c'è un database condiviso sia da chi vuole iniziare a depositare oppure dalla commissione che ci dice questo brevetto è già stato depositato non c'è bisogno che inizi l'iter per depositarlo esiste un database pubblicamente accessibile in maniera gratuita e vediamo a che sito e con che modalità dove sono classificate tutte le domande di brevetto e di brevetti concessi chiaramente con priorità maggiore di 18 mesi per cui noi oggi possiamo accedere gratuitamente a questo database fare una ricerca per classi tecnologiche per parole chiave per depositante noto se c'è un nostro concorrente di cui vogliamo come dire monitorare l'andamento e sapere tutto ciò che è successo più di 18 mesi fa ciò che è successo negli ultimi 18 mesi è concesso come come dire vantaggio di concorrenza al depositante nel senso che se io deposito ho comunque diritto a lavorare in segreto sulla mia invenzione per 18 mesi quindi quello non potremo sapere però in effetti prima di depositare qualunque inventore in maniera autonoma può fare una ricerca di anteriorità diciamo come quella che vediamo a breve e svolgeremo a questo punto ritengo nella prima parte di domani ed è una cosa interessante in vari momenti perché questa brevettuale è una fonte di informazioni che in genere non è considerata ma che è piuttosto ampia cioè tutto ciò che il know-how delle aziende la parte almeno che hanno deciso di tutelare con domanda di brevetto non sempre si trova in pubblicazioni scientifiche si trova in domande di brevetto a patto di saperle leggere e interpretare perché sono un po' diverse dalla pubblicazione scientifica la pubblicazione scientifica la pubblicazione scientifica inficia il brevetto o no? allora nel momento in cui una pubblicazione scientifica viene pubblicata prima della data di priorità della mia domanda di brevetto fa parte dello stato dell'arte per cui ciò che io vado a rivendicare non dovrà essere contenuto nella pubblicazione scientifica le fonti di informazione che valgono sono tutte per cui le riviste di settore le riviste come dire scientifiche di livello i brevetti precedenti quindi qualunque cosa è resa accessibile al pubblico anche lei prego no, allora eccoci qua allora questo è il discorso delle pubblicazioni io volutamente ho utilizzato il termine pubblicazione del documento 1 o del documento 2 perché è una cosa del tutto generica che può essere una rivista scientifica una brochure una scheda tecnica del prodotto di un concorrente qualsivoglia motivo di pubblicazione per il quale sia una data certa allora se io ho questa data di deposito io a questa data di deposito valuto lo stato della tecnica per cui tutte le pubblicazioni che sono state fatte prima sono rilevanti soltanto gli statunitensi danno un periodo di grazia di 6 mesi ma è relativo al brevetto americano per cui diciamo sì, per carità esiste ma come dire è una pezza colore non è non è una vera scappatoia e soltanto le pubblicazioni che siano un evidente abuso non sono valide cioè il dipendente tra virgolette che in maniera non autorizzata pubblica dati dei quali io gli avevo detto di mantenere il segreto però questi sono casi rari in effetti tutto ciò che pubblico alla data di deposito della domanda di brevetto fa parte dello stato della tecnica avrei due domande prego quando posso iniziare a commercializzare se io ho un brevetto un prodotto un processo qualsiasi cosa quando posso iniziare a venderlo dopo la pubblicazione del brevetto o dopo la concessione ammesso che tu abbia tutte le autorizzazioni necessarie no? perché ora potrebbe essere un brevetto di macchine vuole la marcatura CEO qua il giorno dopo il giorno dopo la pubblicazione? il giorno dopo il deposito ah perché che cosa succede no? tu depositi e non ti ancora parti dalla protezione provvisoria il giorno dopo inizi a commercializzare nel momento in cui commercializzi ottieni due risultati il primo che è quello fondamentale che plausibilmente inizi anche a vendere e quindi ti entrano un po' di soldi e il secondo che è un corollario è che nel momento in cui commercializzi quel prodotto diviene pubblico no? perché è sul mercato ragion per cui nessuno di tuoi concorrenti potrà depositare domande di brevetto per prodotti molto simili dopodichè che succede? il terzo giorno lui ci sta copiando noi che ancora non abbiamo nessuna protezione provvisoria no? perché la domanda di brevetto è segreta gli possiamo notificare nelle forme di legge la nostra domanda di brevetto e dirgli guarda che io ho una domanda di brevetto cortesemente smetti da quel momento in poi per lui la domanda di brevetto è pubblica per cui io in effetti la protezione provvisoria la posso azionare a richiesta anche prima dei 18 mesi qualora vedo che qualcuno secondo me è in contraffazione per cui la domanda cioè la risposta è oggi ho depositato domani lo posso mostrare in fiera ho capito e poi un'altra cosa prego io deposito un faccio domanda di deposito no ottengo il deposito di un brevetto di un prodotto qualsiasi altra cosa nell'arco dei 18 mesi anche io trovo una maniera per migliorare il mio prodotto posso fare l'estensione cioè nel senso posso modificare il brevetto come posso comportare devi depositare una domanda di brevetto una nuova per un semplice motivo che è allora questo tuo secondo deposito nel caso in cui tu diciamo parliamo di un'invenzione differente cioè di una cosa migliorativa non gode della priorità del primo come avverrebbe come dire no se la tua non fosse un'altra invenzione per cui non sarebbe corretto che questo tuo deposito prenda questa data se tu una cosa la stai raccontando oggi per la prima volta non è corretto che tu abbia una data di deposito di un anno fa viceversa se le cose che dici oggi sono uguali a quelle che hai detto un anno fa allora puoi mantenere la data di deposito e come dire escludere l'ipotetico documento di due dallo stato dell'arte ma se una cosa la dici oggi per la prima volta la data di priorità a cui hai diritto è quella di oggi grazie volevo chiedere nel caso dei software in particolare nel caso delle app nei mercati tipo Google Play o App Store lì sei su un livello mondiale di competizione sì e i prodotti sono molto simili avendo codici magari sensibilmente diversi conviene spendere qualche soldo se veramente si tiene al prodotto oppure è denaro sprecato nella tua opinione allora dal punto di vista territoriale poi in effetti la violazione ragionevolmente nel caso dell'Apple per bene gli Stati Uniti per cui diciamo in primis bisogna verificare qualora la mia app abbia requisiti di brevettabilità di essere tutelato lì dove la violazione da un punto di vista legale avviene il punto è un altro l'App che io ho sviluppato ha un effetto tecnico perché se l'App che io ho sviluppato ha come utilità quella di come dire rendere meglio in forma grafica contenuti che sono già disponibili sul web ma magari non sono ottimizzati per smartphone e credo che l'80% delle app abbia questa funzione probabilmente da un punto di vista brevettuale non ha nessun effetto tecnico se invece l'App che ho sviluppato mi consente di migliorare le prestazioni del telefonino piuttosto che di controllare da telefonino un processo industriale in una maniera nuova rispetto a quanto non si faceva prima allora ha un effetto tecnico e posso valutare se brevettabile cioè il fatto che sia un'App è un dettaglio però i criteri che dobbiamo applicare sono sempre gli stessi per cui se c'è un effetto tecnico cioè mi consente di fare qualcosa che prima non si poteva fare allora sì ha senso se viceversa quello che fa è migliorare la forma grafica di informazioni già disponibili questa cosa difficilmente potrà essere considerata inventiva e per quanto riguarda dove fare il brevetto il mercato quindi è direttamente internazionale perché se la piattaforma per esempio di distribuzione dell'App Google Play che è una cosa mondiale non posso dire che lo faccio solo in Italia no? per fare un brevetto di costi di meno non avrebbe senso o proprio non si può fare perché è direttamente mondiale il discorso secondo me invece ha senso da un punto di vista economico cioè tu qualunque cosa tu voglia sviluppare allora o sei già pronto per andare sul mercato domani e questo è un discorso ma se hai un attimo di tempo perché la stai finendo di sviluppare devi prendere gli accordi e quant'altro ti conviene depositare in Italia che ti costa poco fissi una data di priorità non spendi tra sei mesi ottieni rapporto di ricerca se ti piace il giorno dopo non devi aspettare 12 mesi lo puoi fare a sei mesi un giorno no? il giorno dopo fai l'estensione per esempio negli Stati Uniti o per esempio a livello internazionale però quei soldi che spendi per l'estensione li spendi a ragion veduta si però volevo dire e mantenerlo solo nazionale non può avere senso no? per il mercato delle app il problema è qual è quella transazione quella contraffazione che si realizzerebbe effettivamente nello Stato italiano ok se qualcuno va in contraffazione di un tuo brevetto nello Stato italiano lo puoi perseguire poi bisogna vedere il problema delle app in realtà è che business io ci faccio perché se io la vendo a 2 euro e di quei 2 euro il non so 40% è della Apple no? 6 per 2 è 1 euro e 20 quante migliaia ne devo vendere per far sì che la spesa di tutela brevettuale in effetti sia come dire una percentuale accettabile del mio fatturato certo cioè secondo me il problema e qui è di prima che di tutela brevettuale di carattere economico perché un brevetto costa tranne alcuni brevetti della chimica che hanno 500 rivendicazioni ma è un caso che credo non so se qui interessa a qualcuno casomai lo vediamo in dettaglio ma in generale è un costo standard allora il business che io posso sviluppare giustifica questo costo? secondo me questa è una domanda da farsi a monte Sì, grazie ok, allora se benissimo 5 in un quarto pausa e poi giochiamo con la toy ball